Dopo quella protesta dell'anno scorso ero riuscito a ottenere qualcosa, l'assegno di cura che per noi è stato fondamentale e da dicembre non arrivano più soldi. E' stato sospeso l'assegno e adesso siamo qui per avere delle risposte perché non possiamo vivere nello stallo. Prima mettere da parte, all'ambito anche di questo stesso bilancio, tutto ciò che serve per la disabilità e poi pensare ad altro come impone anche la Corte Costituzionale. Il decreto Crocetta, tanto criticato, comunque aveva dato una risposta emergenziale per il miglioramento della condizione dei disabili gravissimi. Senza pensare ai gravi, per carità, questa è una grossa lacuna, ma almeno questo l'aveva fatto. Da gennaio scorso questo aiuto mensile, che per molti era e continua ad essere essenziale, non viene più erogato e non c'è una ragione contabile per la quale non debba essere erogato. Il presidente Busmeschi avrebbe preso un impegno con i disabili, ha chiesto anche sei mesi e i sei mesi credo che siano scaduti adesso. Grazie per la visione!